buongiorno da joel guerriero delle vete oggi parliamo di smile in cos'è lo smile in è un metodo per capire per valorizzare per misurare quanto il cliente è soddisfatto di aver fatto una consumazione nel tuo locale importantissimo quindi mettere nel tuo locale lo smile in serve per valutare l'evento qui abbiamo la faccina verde con lo smile veramente importante e questo è quando da 10 praticamente poi abbiamo la faccina media con un piccolo smile è da 7 la faccina insomma con lo smile non tanto felice da 5 e poi con la faccina rossa grande negatività e allora qui abbiamo il problema perché il cliente veramente veramente scontento perché è importante valutare l'esperienza del tuo cliente perché così lo fidelizzi se fai degli errori sai che stai facendo errori quindi lo capisci lui il cliente te lo comunica e poi tu puoi intervenire per poter migliorare ancora di più il tuo servizio i tuoi prodotti il tuo modo di fare magari anche l'arredamento quindi con smile in diristo più lombardia tu puoi veramente diversificarti avere un elemento differentiante molto importante rispetto al tuo concorrente e soprattutto misurare quanto è soddisfatto il cliente che viene al tuo locale chiama il numero verde 800 078 844 jessica arriva ti propone il prodotto poi se ti piace lo prendi sono non c'è assolutamente problema ma l'importante qual è misurare costantemente quanto il cliente soddisfatto di rimanere con te ciao un abbraccio a presto